Buongiorno e buono weekend. Facciamo anche oggi le risposte degli angeli. Allora, prenditi cura delle tue radici. Vediamo se si prende bene. Ok. Pensi mai al tuo passato, alla tua famiglia, alle esperienze che ti hanno condotto fino a qui? Quindi, spesso la fretta e le preoccupazioni quotidiane non ci lasciano il tempo per guardarci alle spalle e a fare tesoro di tutte le cose importanti che il destino finora ci ha riservato. Nessun albero può crescere senza radici e questo vale anche per te. Prenditi cura delle tue origini e renderà più bello anche il futuro. Questo è il messaggio di oggi dal libro delle risposte degli angeli. Vi auguro una buona giornata.